Musica Salve fanni e benvenuti ancora di nuovo alla nuova puntata di FX Calcio con il vostro mister Puccio e quest'oggi andremo a sfidare la Pro Vercelli ricordiamo nella scorsa puntata abbiamo avuto un piccolo infortunio del nostro giocatore quindi dobbiamo giocare con un giocatore fuori posto quindi giocherà lì il nostro grande giocatore Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.